Un'esperienza unica per i ragazzi dei licei Tommaso Campanella di Belvedere Marittimo che in questi giorni stanno vivendo a pieno il Festival di Sanremo. Ospiti della Kermess dedicata alla musica italiana e i ragazzi guidati dalla dirigente scolastica Maria Grazia Cianciulli hanno potuto assistere alle prove, conoscere gli artisti in gara e entrare in sala stampa. Sono presenti nella città dei Fiori infatti gli studenti del liceo musicale e tutti i redattori della web tv scolastica Babel con una postazione multimediale allestita a casa Sanremo. Nella giornata di oggi i liceali sono stati ospiti della trasmissione Buongiorno Liguria mentre ieri la delegazione di Belvedere Marittimo ha incontrato il primo cittadino di Sanremo al quale è stata consegnata una targa ricordo in segno di gratitudine per la disponibilità espressa nei confronti di questa iniziativa. Grande esperienza per i nostri ragazzi, stagio di giornalismo full immersion per la web radio e la web tv scolastica e grande esperienza di educazione musicale per i nostri ragazzi del neo istituito liceo musicale. I ragazzi del liceo musicale ieri hanno assistito alle prove, hanno visto gli Spandau Ballet, i San Motel stanno proprio in ciberillazione e abbiamo i nostri talenti che si esibiscono qui allo stand anche al Palafiori hanno avuto grandi riconoscimenti, grandi applausi da tutto il pubblico del Palafiori e i ragazzi della web radio e web tv che sono gli ostri d'eccezione della RAI di questa giornata che è una giornata clou della manifestazione. Un'opportunità di crescita per gli studenti del liceo e Tommaso Campanella che stanno vivendo l'Ariston e il festival a 360 gradi che permetterà di implementare le competenze giornalistiche e musicali dei tanti ragazzi partecipanti.